Senatrice, prima abbiamo fatto vedere anche la leader del suo partito, Meloni, che insomma ribadisce che potrebbe appoggiare questo nascente governo. In cambio di cosa, nel senso posti di governo, che cosa? Allora, facciamo un passo indietro anche per ricostruire un po' la storia. Fratelli d'Italia è stato rispetto all'accordo, al contratto di governo che poi prevedeva due partner, quindi il contratto giallo-verde è stata, come è noto, contraria. Quando si è verificato il nodo Savona, noi abbiamo, nonostante questa posizione critica rispetto al contratto e al governo Movimento 5 Stelle e Lega, abbiamo sostenuto che era inaccettabile che si bocciasse un governo per bocciarne un ministro e abbiamo dato il nostro appoggio a Savona. Poi, come è noto a tutti, domenica c'è stato questo colpo di scena sul quale, però, sottolineiamo, lei prima citava l'andamento dei mercati, dopo il colpo di scena lo spread è volato. Quando si è ricominciato a parlare di un governo non tecnico ma politico, mi pare che si sia ridimensionata leggermente la cosa. Ma andiamo avanti. Rispetto a quella che è una crisi istituzionale gravissima, un impasse senza precedenti, quindi non è una crisi politica, non è solo una crisi di sistema elettorale, non è soltanto una crisi, e sarebbe già molto, di rappresentanza democratica, ma è un impasse istituzionale perché il capo dello Stato non è riuscito a trovare una soluzione. Rispetto a questo, la nostra Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha detto che noi siamo disponibili a rafforzare il governo, quest'ipotesi di governo. Oltre non siamo andati, quindi la domanda naturalmente è legittima, ma ha già risposto la Presidente, però è un po' prematura, perché noi ancora non sappiamo al di là dello statista che dice 50%, esatto, Giovannini che conosco e che stimo molto, abbiamo un 50% di possibilità che si faccia questo governo e a mio avviso un 50% di possibilità che si vada ad elezioni, mentre la possibilità di un governo tecnico che non ha la fiducia la vedo come una questione chiaramente... Però è il governo che comunque ci traghetterebbe verso nuove elezioni. Sì, però sarebbe una questione di emergenziale e di traghettamento fino alle elezioni. Dice solo un'altra cosa, perché Di Maio si è rimangiata la proposta clamorosa di impeachment che per prima aveva lanciato Giorgia Meloni, e voi invece? No, noi guardi siamo stati in aula e tratto io personalmente, c'è stato un dibattito l'altro giorno in aula del Senato che è stato aperto dal Movimento 5 Stelle, che naturalmente non era sull'impeachment, non si è parlato di questo. Si voleva da parte nostra ripetere e ribadire in quella sede che c'era stata una forzatura, secondo noi, del perimetro costituzionale. È noto a tutti, non bisogna essere definiti costituzionalisti, che la procedura di impeachment tecnicamente in questo momento, al di là dei precedenti storici che non ci sono nella nostra storia della Repubblica, eccetera, eccetera, al di là di questo non ci sono gli organismi, perché non sono stati eletti, atti a portare a compimento l'eventuale procedura, perché come è noto a tutti non abbiamo nominato l'organismo attraverso il quale... Sì, non ci siamo pentiti perché è un discorso politico. Noi, lo voglio dire con serenità, però con forte convinzione, il capo dello Stato, a cui si deve un rispetto istituzionale, però ha compiuto un atto politico, a nostro avviso, grave, fuori, diciamo, dal perimetro costituzionale, forzando il perimetro costituzionale, perché non si boccia un governo per un ministro e soprattutto non si boccia un ministro, perché questo ministro non è gradito, perché poi il professor Safona, qui mi permetto un minuto di... un secondo per fare una parentesi, il professor Safona, il cui profilo è tecnicamente, oggettivamente, come dire, elevatissimo, di fama internazionale, che è stato demonizzato ed è diventato l'uomo nero anti-euro e su questo ci sarebbe da discutere, questo uomo è sgradito alla BCE, alla Banca d'Italia, da quando si è occupato del baline, dei fallimenti bancari, cioè diciamole tutte le cose. Allora, questo niet a Safona, che tra l'altro nel metodo voglio dire non si boccia un governo per bocciare un ministro, ma comunque questo niet da dove viene? Perché questo è un diktat, cioè è una scelta del Presidente sulla la suggestione dei mercati, che sono gli stessi mercati che consentono due giorni dopo a dire, a far dire al commissario europeo al bilancio che saranno i mercati a insegnare all'Italia a votare la cosa giusta contro i populismi. Quindi, allora, c'è un problema politico o non c'è? C'è un problema politico. Quindi, allora, forse dovremmo ricentrare un po' tutti le nostre riflessioni. Insomma, ci vuole molta calma e sangue freddo in questa fase.